L'Italia deve, in questa prospettiva, assolutamente cogliere questa opportunità. Vi chiediamo di esprimere le vostre valutazioni su queste proposte. Preservare l'impresa, mettere in condizioni le imprese, nella prospettiva di poter affrontare vigorosamente, in modo riattivo, in modo resiliente, uno shock come questo e quindi il rilancio sia una priorità del nostro Paese, se no non andiamo da nessuna parte. Abbiamo l'umiltà di ammettere anche dei ritardi, degli errori, fermo restando che certo non possiamo essere chiamati a rispondere di carenze strutturali che il sistema Italia si porta da circa vent'anni. Perché Presidente Conte, guardi, noi siamo convinti che non esiste uno Stato che è attivo e un privato buono. Noi ci limitiamo a pensare che una democrazia moderna vive e progredisce se ha istituzioni efficienti e funzionali. C'è una pubblica amministrazione buona. Abbiamo raccolto tre proposte di priorità, di metodo, che parlano di quelle riforme strutturali proprio che lei accennava nel suo intervento e che io condivido. La prima è la produttività. Tema grande essente da 25 anni nel dibattito pubblico italiano. La seconda priorità è quella della misurazione di qualità efficacia della spesa pubblica. E poi c'è la terza priorità, che è quella del nostro futuro. Serve subito una cornice credibile, pluriennale, di sostenibilità della finanza pubblica italiana e di riduzione del pedibito pubblico. Ma la madre di tutte le battaglie è quella che impatta molto il nostro settore. Perché noi siamo un settore che impatta la pubblica amministrazione esclusivamente per il lavoro pubblico, per anche il mercato privato. La madre di tutte le battaglie è quella che dovrebbe essere la revisione dell'abuso d'ufficio e la reprimaturizzazione del danno erariale, signor Presidente. Le priorità sono, sostanzialmente, mettere tutte queste risorse in qualcosa che tornano in futuro, che devono essere messe a sistema e concrete per quelle che sono le future generazioni, perché sono i soldi loro. Io dico sempre che la capacità di un paese, la forza di un paese, l'Italia l'ha dimostrato. Quando all'inizio di questa pandemia eravamo gli untori dell'Europa. Vi ricordate? A testa alta adesso veniamo considerati in Italia, in Europa, nel mondo. Siamo stati i primi quindi poi a uscire, i primi che hanno affrontato in modo lineare, con grande dignità e anche efficacia questa pandemia, adesso dobbiamo essere i primi, come stiamo facendo, che affrontiamo il rilancio e la ricostruzione.